e cari lavaticisti bevono di questo nuovissimo video oggi siamo qui con un nuovo video nuovo nuovissimo che sono un po di giorni che non ho fatto video in te esattamente oggi vorrei fare il programma lana con roba qui sotto maglie di lana peluche riceverà tanto carichiamo la roba perfetto useremo dopo prendiamo questo e ci aggiungiamo poco poco ve lo consiglio perché mi sarebbe un profumo straordinario e poi aggiungiamo mezzo tappo di mezzo tappo sarebbe aspetta perché risetono i millimetri dopo l'ultima volta che è successo sui 45 eccoci qua allora dicevo aggiunto detersivo normale e lo inseriamo sotto alla lavatrice inseriamo inseriamo la morbidenza io uso il fabuloso mezzo litro diciamo noi che stavamo tantissimo il programma il programma che andremo a inserire è questo qui lana 40 spostiamo il cassetto spostiamo tutto chiudiamo lo blo allora dicevo impostiamo il programma mettiamo dritto innanzitutto accettiamo la lavatrice vedete il display girando verso di qui verso sinistra giriamo la manopola verso lana dopo aver fatto questo abbasso la temperatura 30 perché ci sono buone robe dedicate diciamo non posso fare più di così e niente adesso appoggio il cellulare verso giù e si avvia la lavatrice caricamento dell'acqua ma dovrebbe cominciare a roteare ecco forse accendiamo anche la luce si vede così si si vede ecco forse rotazione 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 non ho esagerato stavolta se volete il programma camice sotto dei colpenti troverò un sistema per farlo di c'è non 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 Grazie. Grazie. Pausa. Pausa di un minuto. Grazie. Grazie. Seconda rotazione. Fermati, fermati, fermati. Cascate la mia gara. Guarda che bella colata di schiuma, boy. Bellissima. E ora è l'ascutano, ma non è Boy. E ilforeto... Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ok, ma dovrebbe scaricare l'acqua. Dovrebbe scaricare l'acqua e cominciare a fare le rotazioni. Vedete che bel livello. Vedete come si alza piano piano. Piano piano, buono buono. Vedete. 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 piano piano buono buono devo smetterla guardate il livello sta alzando piano piano si però adesso basta guardate lo scompatto del lavaggio non scarica grazie a tutti non dovrebbe scaricare l'acqua quindi ci vediamo alle rotazioni se arrivo acqua è il lavaggio principale grazie a tutti 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 qua di fila di un uccia Grazie a tutti. Primo spunto. Wow. Vabbè è partita strana, non c'è di più. Ok adesso gli sta facendo, adesso deve fare il secondo spunto a 600 giri e poi inizia con gli sciacqui. Che bel video. Ok. 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 Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie 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 a tutti. a tutti. a tutti. Grazie a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. rotazione. a tutti. 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 fine. ora. perfetto. Perfetto. togliamo tutto. a tutti. a tutti. a tutti.